Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile sul nostro territorio. Mercoledì 29 marzo sarà un'altra giornata asciutta. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, inizialmente con cielo sereno. A seguire sarà via via più nuvoloso e anche coperto verso sera, ma in genere senza piogge. Temperature in generale ripresa, minime tra 1 e 5 gradi. Massime invece tra i 14 e i 17 gradi, all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sulla fascia prealpina. Sulla costa soffierà vento di libeccio. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche addensamento del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.